In questo video tutorial vi mostrerò come trasferire i titoli in WeBank. Per effettuare il trasferimento titoli dalla sezione privata del sito WeBank è necessario andare nella sezione Trading, cliccare su Costi e Attivazioni e cliccare sul sottomenu Documenti. A questo punto abbiamo una nuova pagina. Alla terza riga troviamo Trasferimento titoli da altra banca a WeBank. Clicchiamo su Scarica modulo richiesta. A questo punto avremo l'inserimento dei codici della password di secondo livello dopodiché avremo il modulo in PDF. Questo modulo va inviato al numero di fax 02-4345-0601 indicato nel modulo stesso. Va compilata la banca originaria, la banca nuova ovviamente WeBank il dossier titoli originario e il nuovo dossier titoli presente in WeBank. Nella parte successiva va indicato nome e cognome e codice fiscale dell'intestatario dei titoli. Nella parte in fondo va poi inserito luogo e data e firmare da parte del sottoscrittore del trasferimento dei titoli. Grazie. 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 Grazie.